Bocic, c'è la partita contro la Fermana, parola d'ordine, tornare al successo, sei d'accordo? Sono d'accordo, bisogna vincere, è una partita importante e siamo consapevoli che dobbiamo acquisire quei tre punti fondamentali. Un peccato quel minuto finale a Chiavari perché sei andato vicinissimo a un gol che meritavi davvero. È stato un momento in cui ho pensato di poter far vincere la squadra perché comunque abbiamo fatto la nostra partita e peccato che la palla non sia entrata. Secondo te si può riaggiustare un po' la situazione visto che la Reggiana sta scappando via? Io sono consapevole che abbiamo una squadra con delle qualità molto importanti e sono sicuro che possiamo fare cose molto importanti quest'anno. Come sta Bocic? Bene a me. Pronto per una maglia da titolare o ti affidi al mister? Io mi affido al mister. Però? È lui che sceglie i giocatori che devono scendere in campo. Però vorresti giocare? Sicuramente.